Qui a Letto Manopello. Organizzata dalla redazione del Tg Letto Maiella, domenica scorsa a Letto Manopello si è vissuta un'intera giornata di riflessione su informazione e comunicazione. Dibattiti sia al mattino che nel pomeriggio per riflettere sul rapporto tra i media e l'opinione pubblica locale su cui assieme al senatore Luciano D'Alfonso sono intervenuti l'ex presidente nazionale dei core con Filippo Luci e i direttori di Reteotto, Carmine Perantuono e di la QTV Luca Bergamotto. È stata l'occasione per trarre un primo positivo bilancio sull'esperienza del Tg locale Letto Maiella, confezionato da un gruppo di attivisti del PD ma anche spesso e volentieri strumento di stimolo e di critica nei confronti della stessa amministrazione comunale come ha spiegato il sindaco Simone D'Alfonso. Si sta cercando insomma ecco di essere anche come un campanello d'allarme per l'amministrazione locale. È molto importante, molto lodevole come iniziativa, come dicevo, ma anche soprattutto molto vicina. Tante volte si denuncia il fatto anche sul social oppure anche su altri canali, si denuncia senza poi avere anche come dire una continuità sulla risoluzione del problema. Invece il Tg Letto Maio Pello sta dando sicuramente il campanello d'allarme ma ci sta anche, diciamo così, con i loro iscritti ci stanno anche dando quelle tante volte quelle soluzioni pratiche da poter poi mettere sul campo e così poi poterle risolvere.